un altro modo per preparare gli spinaci e questo allora innanzitutto cosa abbiamo bisogno di spinaci granella di mandorle, uva sultanina, scaglia di grano e burro. Allora, another way to prepare spinach are this one. We need spinach, almond in small pieces, sartans, grana padano flakes and butter. So, we have to boil the spinach just one minute. Allora, bolliamo gli spinaci in a salted water. un minutino. Dopo un minuto gli spinaci sono pronti. Dopo un minuto siamo pronti. Ora, bolliamo. Facciamo sciogliere il burro. Let's melt the butter. Non lo friggiamo, eh. Il burro non va fritto perché rilascia sostanze tossiche. Non va fritto. Quindi lo facciamo sciogliere. Let's melt the butter. Be careful. Don't fry it. Lo faccio sciogliere. Ok. Lo facciamo quasi. Ok. Adesso aggiungo gli spinaci. Ok. Ho bisogno. Aggiungiamo il resto degli ingredienti. Mandorle. uva sultanina. E uva sultanina. We add just the almonds and the sultans. Grana padano. Later. I switch off the fire and I will add it. Ok. Ho spento. Lo aggiungo. Lo aggiungo. So. We are ready. Fast. And tasty. Allora. Impa. 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 Appiattiamo. La uva sultanina gli dona un sapore particolare. Che fa quasi da contrasto. Ok. Ready. Steady. Go. Allora. 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 Allora.